Tramite il criterio del confronto è utile conoscere alcune serie a termini di segno costante che ci facciano da riferimento, cioè che ci dicano la serie converge, non converge a seconda, noi sappiamo che questa serie armonica generalizzata converge quando alfa è maggiore di 1, alfa è sempre un numero così, se no il termine non è neanche infinitesimo e questo è utile perché per esempio se io adesso vado a considerare questa serie qui, somma di seno di n più 1 fratto n quadro, seno di n più 2 mettiamo per n che vado a 1 più infinito, secondo voi questa serie che fa? Adesso dovete ragionare, cosa può fare questa serie? se no di n più 2 è compreso tra 1 e 3, se no di n è compreso tra meno 1 e 1, se divido per n quadro, siccome n quadro è positivo, la eseguaglianza rimane, allora adesso che cosa so? Se vado a fare la serie di 1 su n quadro o di 3 su n quadro, è convergente o no? È convergente sì, è armonica generalizzata esponente 2, quindi se faccio la serie di questi convergente, quindi la serie di questi convergente, quindi questa qua è convergente, se qua invece ci metto n alla n, che succede? Stavolta questa serie diverge quindi questa diverge, chiaro? ok, e come lo possiamo dire? Lo possiamo dire perché conosciamo che questa serie qui complice, allora poi cosa abbiamo visto? La sommatoria per n che va da 2 a più infinito, di 1 fratto n per logaritmo di n elevato ad alfa, converge se solo se alfa è maggiore di 1. Perché mi interessa questo tipo di serie, perché se io ci tolgo questo, la serie era divergente, se l'alfa è maggiore di 1 la metto direttamente su n, la serie era convergente, che cosa è già da sopra? Allora cosa voglio aggiungere? un infinito qua, qualcosa denominatore che va da più infinito, vicino a n, ma più debole di n, perché se ci metto una potenza di n, un po' di potenza di n in più è chiaro che la serie convergente. Allora qual è un infinito intrinsecamente più debole di n? Il logaritmo. e poi provo a vedere, a seconda delle potenze del logaritmo, chiaramente questo è più piccolo di 1 su n e più grande l'abbiamo visto prima di 1 su n alla beta. Però utilizzando il criterio di condensazione, qua vedo che effettivamente la convergenza di questa serie dipende da alfa, cioè se alfa è maggiore di 1 la serie è convergente, se alfa è minore uguale di 1 un'altra oltre a 16, diverso. Andiamo a fare la sommatoria per n di 1 su n logaritmo di n, logaritmo del logaritmo di n, l'ultimo lo eleviamo all'alfa. Ora affinché questo sia positivo mi serve che n sia maggiore di 3, se n è maggiore di 3, logaritmo di n è maggiore di 1 e logaritmo di 1 di un numero maggiore di 1 è positivo, quindi per n che fa da 3 a più. Giusto per non stare lì a dire, per non avere problemi, qua n uguale a 1 l'abbiamo dovuto evitare perché logaritmo di 1 fa 0, non posso dividere per 0. La n uguale a 1 l'abbiamo evitato per non avere dei termini negativi ma non sarebbe cambiato niente in questo caso. Questa qua quando converge? Se provate a fare un esercizio inizio ad applicare il criterio di condensazione, vedete che anche questa converge se e solo se alfa è maggiore di 1. Allora perché è importante tutto ciò? È importante perché mi dice che non ci sta una serie che possa dirimere tutto, cioè se i termini sono più grandi di questa la serie è diversa, se i termini sono più piccoli di questa la serie converge, non ce n'è una perché vedete, se provate ad usare il teorema del confronto utilizzando queste serie e confrontandola con questa non ci cala di niente, questa è una serie un po' più delicata, ovviamente per fortuna nell'applicazione non capirà spesso una serie di cose, quindi per ricordarsi questa cosa io uso una metafora, la metafora è la metafora di una bilancia, qua avete la vostra bilancia con i piatti allora qui avete un certo peso, allora che non sappiamo quanto è, non potremo mai misurare la realtà precedente, però, allora l'idea è, diciamo, questo peso mi rappresenta la mia serie allora che succede, quando è che la serie con me? Con me? Allora io metto da quest'altra parte dei mattoni se la bilancia sia i mattoni, il numero di mattoni sarebbe questo alfa qua allora diciamo che, con un mattone, la bilancia rimane un po' in birri come alla fine pende da questa parte quindi vuol dire che la serie diventa, se ci metto un mattone e un pezzettino di mattone, la serie questo si abbassa, il piatto si abbassa da questa parte, la serie con me? E' una metafora eh, figliata da una metafora quindi, per far con me una serie ci vuole più di un mattone, alfa deve essere maggiore di, è chiaro? ci vuole un mattone e una scatola di mattone, però io non riesco a capire quanto piccola debba essere questa scatola di mattone, perché ogni volta che metto una pezzettina di mattone sempre più piccola, la cosa si abbassa sempre, allora, arriva un altro che mi dice ma se tu vuoi misurare le cose a mattoni, tu per quanto possa fare la piccola scatola di mattone sempre un pezzo di mattone, quindi quello la si abbassa sempre, se vuoi capire devi usare qualcosa di intrinsecamente più leggero, allora cosa c'è in qualcosa che sia più leggero di un mattone, di qualunque scatola di mattone, diciamo una piuma, allora diciamo che un mattone non ha più, la scatola di mattone per quanto piccola è sempre più pesata di una piuma questo è il nostro assioma in realtà, perché nella realtà non è così, ma comunque, allora quindi sono passato, un mattone ce l'ho messo, adesso sono passato a mettere una piuma allora quante piume ci devo mettere per far convergere la mia serie? Una vedo che non basta allora cosa faccio, prendo una piuma e mezzo, taglio un pezzetto di piuma e allora vedo che converge prendo una piuma e un pezzetto di piuma, vedo che converge, quando deve essere piccolo il pezzetto di piuma per quando lo prendo, prendo una piuma e un pezzetto di piuma la serie mi converge sempre allora a questo punto uno dice vabbè, ma allora se vuoi vedere se converge, capire quando converge non devi usare più una piuma, perché qualunque pezzetto di piuma sarà più pesante intrinsecamente di che cosa? Per esempio di un capello, allora ci metto un mattone, una piuma e un capello con converge? No, diverge, qui ci vuole un mattone, una piuma e due capelli un mattone, una piuma e una quantità di capelli maggiore di 1 questa metà ovviamente la potesse continuare all'infinito, no? Cioè potesse fare il capello, poi fate il granello di polvere poi fate il micro, un po' eccetera, all'infinito no, ma invece questo può andare avanti all'infinito cioè, se io vado a fare questa serie qua, per n che va da un certo n opportuno a più infinito se faccio uno su n, poi ci metto logaritmo a n, poi ci metto logaritmo e logaritmo a n, poi ci metto logaritmo e logaritmo che fa stasera? Vediamo se avete capito, che fa stasera? Manca per niente, diverso, ci avete messo un mattone, una piuma e un capello un granello di polvere e un micro, non basta, se qua ci mettete A, A maggiore di U, con mezzo se no? Chiaro? Ok, comunque questo qua, questo tipo di serie non capiterà spesso adesso, abbiamo le serie per fare i confronti come facciamo a stabilire se le altre serie convergono per esempio, andiamo a fare un tipo di serie abbastanza semplice supponiamo di fare questa serie qua grazie a tutti per n che va da 2 per n che va da 2 oppure mettiamo più qua ok? cosa fa questa serie? allora, noi sappiamo che questo argomento qua è positivo l'alconaggiato di numero positivo è positivo per n che tende a infinito questo tende a infinito ma l'alconaggiato di numero che tende a infinito tende a? la funzione arcotangente la funzione arcotangente a più infinito tende a? di greco mezzo qui invece abbiamo 1 su radice quadrata di m³ che fa sta serie? allora, viene tutto è a termini di segno costante? si, tutta roba così via che fa sta serie? che fa sta serie? se sta serie converge in realtà è evidente anche se a voi per adesso non lo è adesso vi spiego perché è il solito discorso degli infinitesimi cioè a con n è arco tangente di n quadro più 1 fratto n meno 1 fratto la radice quadrata la radice quadrata di n³ più n più 1 allora supponiamo questo qua è infinitesimo perché questo tende a una costante e questo tende a infinito quindi questo tende a 0 allora vogliamo stimare qual è l'ordine di infinitesimo? qual è l'ordine di infinitesimo? sopra cosa abbiamo? abbiamo detto questo tende a? quindi è pi greco mezzi più o piccolo di 1 stavolta tenete conto che n stavolta noi sta andando a più infinito quindi l'infinitesimo di riferimento per noi è 1 su n e sotto? portate in evidenza un n alla 3 e mezzi qua vi viene la radice di 1 più 1 su n quadro più 1 su n cubo cioè cosa vi viene? questo tende a 1 questo è trascurato rispetto a questo quindi alla fine viene pi greco fratto 2 per n alla 3 e mezzi per 1 più piccolo di 1 no no tutto il resto diciamo se metti in evidenza questo pi greco mezzi sopra quello che diciamo quello che rimane tende a 1 quello di sotto tende a 1 poi rimane pi greco fratto 2 per n alla 3 e mezzi e quello che rimane è 3 questo è sempre a con n allora quando noi abbiamo una situazione del genere diciamo che a con n si comporta asintoticamente come pi greco fratto 2 alla 3 e mezzi quando uso questo simbolo significa che questo fratto questo tende a 1 ok? che è esattamente quello che è scritto ma se succede questo che succede? che quando ci vado a fare la serie le due serie hanno lo stesso comportamento cioè se converge questa converge questa converge questa converge questa converge questa questa converge? certo che si perché pi greco mezzi è una costante lo porti fuori 1 su n alla 3 e mezzi è armonica generalizzata esponente 3 e mezzi e qui ok? allora questa cosa qui che se questo si comporta come questo le due serie o convergono tutte e due o divergono tutte e due la dimostriamo più precisamente dimostriamo la seguente proposizione supponiamo di avere due serie a termine di segno costante abbiamo somma per n che va da 1 infinito di a con n somma per n che va da 1 infinito di b con n a con n e b con n riprendo maggiori di 0 perché? perché devo fare i rapporti e per fare i rapporti bisogna che il denominatore sia diverso poi suppongo che a con n su b con n ovviamente converge una costante L positiva ovviamente perché questa è tutta roba positiva è il numero reale positivo queste sono le ipotesi allora esi allora la prima serie ommerge se solo sei ommerge la seconda ommerge questo ormerge questo y ommerge questo perché Perché? Andiamo a dimostrare, facciamo una dimostrazione, la facciamo qua, quindi non serviva neanche che convergesse a U, basta che converga L con L, la dimostrazione. Se converge a L, esiste un n, tale che se n è più grande di n, a con n su P con n, è compreso tra L mezzi e 2L, credo Y è uguale a L mezzi, infatti il tuo può poter mettere 3 mezzi a L, non cambia nulla. Quindi, moltiplicando per B con n, trovo di a con n compreso, tra questo per B con n e questo. Quindi, adesso andiamo a vedere la somma da ni a più infinito di a con n. Questa è più grande di L mezzi per la somma da ni a più infinito di B con n. Ed è più piccola della somma di 2L per la somma da ni a più infinito di B con n. Quindi è chiaro, se converge questa, moltiplici per il 2L e combina a convergere, è maggiore di questa, quindi questa converge. Se converge questa, converge pure questa, divido per elementi, converge anche senza elementi. Quindi, le due serie hanno lo stesso comportamento, veramente queste non sono le due serie ma sono i resti niesimi delle due serie. Ma noi sappiamo, abbiamo visto ieri, che una serie ha lo stesso comportamento del suo resto niesimo. e quindi, questa converge, questa converge, questa diverge, questa diverge, questa diverge. È chiaro? Bene. Beh, a questo punto è finito perché qua con n, vi ricordo, si comportava come pi greco mezzi per n alla tre mezzi. Allora, a questo punto, questo si comporta come questo, ho lo stesso comportamento di questo, questa qua è una serie armonica generalizzata di esponente del mezzo. Qui, converge. Eh, vedete, qui, ma non mi interessa proprio di andare a cominciare a fare, diciamo, maggiorazioni strane, eccetera. Questo, tendo a piccare come mezzi, questo si comporta come n alle tre mezzi, questo converge. Basta. Cioè, la teoria che abbiamo costruito piano piano, è faticosa, ma ha dei frutti molto, diciamo, importanti. Perché qua, noi non ti dobbiamo perdere, ci voglio due secondi per vedere questa converge. Chiaro? Prendiamo un attimo. Io capisco che le serie allo studente siano, per le serie, per lo studente siano un po' ostiche, perché scumulano vari concetti, il concetto di limite, il concetto che è pure una somma di, è un limite di somma, il limite delle somme parziali, quindi prima sommare, fai le somme parziali, poi fai le limite. E poi cumulano i concetti del confronto e altre cose, quindi per andare a studiare l'esercizio delle serie, non è banale. Capisco, questo lo capisco, però se uno si mette là, calmo calmo, alcune cose sono facili, certamente altre cose sono molto difficili. Non mi ricordo se era Abel, insomma, che diceva che le serie erano uno strumento del diavolo. C'era qualche matematico, che le studiava le serie, non è che diceva che lo strumento del diavolo, allora lo studiamo. Ok, andiamo a vedere un'altra, somma, per n che va da 1 a infinito, andiamo a fare, per esempio, arco tangente di n più 1 fratto n quadro più 3, questa volta, poi ci mettiamo, un bel esponenziale qua, di n meno 1 fratto 2n più 3, e poi qua ci mettiamo un bel logaritmo, n alla quarta più 5n, che fa questa serie? è esattamente un problema molto simile a quello di prima, si tratta di capire come si comporta con n. Allora, siete in grado, all'arco tangente di n più 1 fratto n quadro più 3, come si comporta? Allora, prima passaggio, per n che tende a infinito, questa roba a quanto tempo? L'argomento, a 0, ma noi sappiamo che arco tangente di x, quando x è infinitesimo, è uguale, come cominciava la serie dell'arco tangente? è uguale a x, arco tangente di x, vicino a 0, è uguale a x, quindi questo si comporta come n più 1 fratto n quadro più 3, più termini di ordine superiore, cioè, quando uso questo simbolo, questo fratto questo n quadro più 3, ma questo a sua volta come si comporta, lo sapete scrivere? è un infinitesimo, ma quale infinitesimo è? chi comanda sopra? sotto? quindi questo si comporta come? 1 su n, cioè, se moltiplico questo per n, viene n quadro più n fratto n quadro più 3, che tende a 1, quindi, si comporta come 1 su 1. Allora, un pezzo l'abbiamo fatto, questo si comporta come 1 su n, invece l'esponenziale di n meno 1 fratto 2n più 3, come si comporta? come si comporta? è l'n che tende a infinito, questo tende a? l'esponenziale da? e l'esponenziale da un mezzo e l'esponenziale da un mezzo la dice di s questo si comporta come radicale perché tende a radicale, se lo divido per radicale, tende a 1 logaritmo di n alla quarta più 5n più 1 come si comporta? allora, questo è uguale al logaritmo di n alla quarta più il logaritmo di 1 più 5 su n cubo più 1 su n alla quarta, o no? il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi ma questo qua tende a? 0 allora questo si comporta come logaritmo di n alla quarta perché questo va a infinito, questo va a 0 ma chi è il logaritmo di n alla quarta? sbaglio o è 4 logaritmo n? in totale quindi, questa serie come si comporta? come la serie da 1 a infinito di che cosa? di 1 su 4 radicale n logaritmo n diciamo da 2 perché logaritmo n è un gioco possonente da 2 questa serie che fa? questa è una costante fuori costante cosidibile che rimane? 1 su n logaritmo n che serie è? un mattone e una più che fa? diverso quindi questa qua diverso e questa serie qua? 1 questa serie è di per 2 o quindi questa diverso e questa 1 attenzione se commettono tutte e due non significa che se questa commettono mettiamo che questa sapevamo fare la somma mettiamo che si comportava come 1 su 4 radicale per n quadro allora la somma di 1 su 4 radicale per n quadro è pi greco 4 sesti fratto 4 radicale per n quadro quant'è la somma di questa? diciamo mettiamo che si comportava come quella non lo sappiamo cioè quando diciamo si comporta come? asintoticamente conta soltanto per vedere se il commettono diverge non conta per stabilire la somma perché qua non stiamo stabilendo delle disuguaglianze per stabilire delle disuguaglianze avere delle disuguaglianze tra le somme ci vogliono delle disuguaglianze che valgano per ogni n non da un certo unimbolo il comportamento ci interessa soltanto asintotico perché noi sappiamo che la serie ha un certo comportamento se solo se il suo resto ha lo stesso comportamento diverso se solo se il suo resto è diverso chiaro? vediamo un po' abbiamo ancora tempo andiamo a fare un altro grazie 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 che fa questa serie? grazie 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 secondo voi cosa fa questa serie? grazie 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 magnificent grazie se non riuscite a vedere cosa fa stasera vi avrete 6 problemi di vista è evidente che questa serie non è come niente, è evidente che è converso perché è converso allora questo qua è un esercizio che si potrà fare adesso dovremmo fare il criterio della radice se io faccio a con n più 1 questo è 2 alla n più 1 fratto a con n è uguale a 2 alla n fratto a con n fattoriale fate il rapporto a con n più 1 fratto a con n questo rapporto fa 2 fratto n più 1 quando n tende a infinito questo rapporto tende a 0 vedremo che quando quel rapporto tende per esempio a un numero minore di 1 la serie può meggio quando tende a un numero maggiore di 1 la serie diverge però dice ma vabbè grazie avete fatto il rapporto che noi non abbiamo fatto quindi sono giustificato il nostro piano now questa è evidente che converge allora se n è più grande di 4 n fattoriale è maggiore uguale di 4 alla n meno 4 di 4 alla n meno 3 ci siamo fino a qua perché i primi 3 sono 1 2 3 poi da 4 in poi n è più grande di 4 quindi tutti gli altri n meno 3 fattori sono 2 alla n su 4 su n fattoriale è più piccolo di 2 alla n fratto 4 alla n meno 3 cioè 2 alla n fratto 2 alla 2 alla n meno 6 adesso fatevi la sottrazione qua vi viene 2 alla 6 meno n cioè 6 per 2 alla meno n questo è a con n è banale cioè è più piccolo di 6 per un mezzo alla n ok ok ma 64 è una costante la porto fuori somma di 1 su 2 alla n converge perché la serie geometrica ti ragiona un mezzo è più grande di questa somma di questa serie qua e quindi la serie qua e quindi la serie converge quindi questa è minore di 64 per la somma per n che va da 1 al più infinito io uso di 2 alla n questa con mezzo questa con mezzo che è il confronto cioè quando funzioneranno criteri del rapporto criteri della radice tutta questa roba qua le cose si vedono subito perché n fattoriale è molto cresce molto più velocemente di 2 alla n quindi quell'a con n va a 0 molto velocemente se va a 0 molto velocemente la serie con mezzo se va a 0 più velocemente la serie con mezzo se va a 0 più velocemente la serie con mezzo questo dovete capire quando quando a con n va a 0 come 1 su n alla alfa o più veloce la serie con mezzo se va a 0 come 1 su n non converge questo va a 0 come 1 su 2 alla n molto più veloce va a 0 in maniera esponenziale quindi con mezzo capite la differenza tra con mezzo a 0 in modo polinomiale 1 su n 1 su n quadro 1 su n cubo e 1 su 2 alla n i reciproci 2 alla n per n grande sarà molto più grande di n quadro 1 alla quarta n cubo n alla 10 n alla 1000 e quindi quando passiamo ai reciproci 1 su 2 alla n sarà più piccolo e se è più piccolo se ne converge meglio è chiaro? ok quindi abbiamo fatto anche questo allora vediamo un po' vediamo un po' questi benedetti criteri del rapporto e della radice facciamo il criterio del rapporto poi facciamo quello della radice che è un po' meglio ma stiamo là facciamo il criterio del rapporto poi facciamo la pausa allora andiamo a fare abbiamo somma per n che va da 1 a infinito di a con n somma per n che va da 1 a infinito di a con n eh scusate c'ho una una sola di serie no? abbiamo questa supponiamo che i a con n siano tutti positivi però niente e facciamo un po' di silenzio e facciamo un po' di silenzio dopo di che supponiamo che il massimo limite di a con n più 1 fratto a con n sia minore di 1 questo limite questo limite lo chiamiamo lambda ed è minore di 1 allora la somma per n che va da 1 a infinito di a con n o meno o meno ok? supponiamo viceversa che il minimo limite o se vi scoccia massimo limite metteteci il limite va bene qua funziona lo stesso di a con n più 1 fratto a con n sia uguale a lambda maggiore di 1 che vuol dire che la somma che è la somma e la somma e la somma ok? come si fa la dimostrazione? è una parola d'applicazione del teorema del confronto allora la dimostrazione primo caso questo è il caso 1 e questo è il caso di un. Primo caso, esiste un epsilon positivo tale che lambda più epsilon è ancora minore di 1, in corrispondenza di questo epsilon, sia epsilon positivo, in corrispondenza di questo epsilon esiste un ni tale che se n è maggiore o uguale di ni dalle proprietà del massimo limite, a con n più 1 fratto a con n è minore uguale di lambda più epsilon, che vi ricordo è minore di 1, però ogni n è maggiore o uguale di x, da questa disuguaglianza segue che a con i più h è minore uguale di a con i per lambda più epsilon e ne vado all'h, questo per ogni h positivo, intero, maggiore o uguale di 0, ok? e se ci metto 0 a con ni, maniore uguale di a con i, allora io dico che la somma per n che va da 1 a ni di a con n, più la somma per n uguale uguale a ni più 1 a più infinito di a con n, cioè la somma parziale nesima più il resto nesima, ma la prima somma la lascio uguale, anzi la chiamo proprio s con i, l'altra somma la scrivo come somma per h e a con n, per h che va da 1 a infinito di a con ni più h, cioè pongo a uguale a con ni più h, allora quando n è uguale a ni più 1 h è uguale a 1, quando n è uguale a ni più 2 h è uguale a 2, quindi h va da 1 ma questo è a minore uguale di s con i più, adesso uso questa disuguaglianza, qua mi viene a con i che è una costante che posso portare fuori, posso scrivere somma per h che va da 1 a infinito di lambda più epsilon alla h, ma questa è una serie geometrica di ragione lambda più epsilon, ma lambda più epsilon minore di 1, questa con i, moltiplicata per la con i, rimane un numero reale più s con i, rimane un numero reale e quindi la serie risulta convergente, ok? Allora, caso 2, caso 2, lo scrivo qua sopra, questo non mi serve più, lo cancello, per non andare sulla lavagna di dietro, caso 2 risulta, nel caso 2, dico sia epsilon maggiore di 0 tale che lambda meno epsilon sia maggiore di 1, esiste un indice ni tale che se n va da ni in poi, allora a con i, allora a con n più 1 fratto a con n è maggiore o uguale di lambda più epsilon, è maggiore di 1. Pertanto, la mia somma per n che va da 1, diciamo, chiaramente da quello derivo la disuguaglianza, a con i più h, maggiore o uguale di a con i per l'anda più epsilon alla h, per ogni h appartenente a n, vale anche per h uguale a 0, ma poi h uguale a 0 non mi era servito, quindi a questo punto se io vado a fare somma per n che va da 1 a infinito di a con n, questa è uguale a una somma per n, questa è uguale a una somma per n che va da ni più 1 a infinito di a con n, il resto è uguale a n, s con i più la somma per h che va da 1 a più infinito, questa è maggiore o uguale di a con i per l'anda più h alla l'anda più epsilon, elevata o uguale di a con i per l'anda, ora stavolta vedete che la mia, la mia serie è più grande di una serie geomerica o la ragione è maggiore di 1, quindi questa serie diverge, e quindi la dimostrazione è confusa. quindi se il massimo limite è minore di u, con meno, se il minimo limite è maggiore di u, diverge, e se il minimo limite è uguale a 1, qua va bene anche se qua c'è diciamo se c'è 1 alla h, questa diverge, no perché, scusate, qua era lambda meno epsilon, meno epsilon, no perché se il minimo limite era 1, lambda meno epsilon come faceva ad essere minore di 1, maggiore di 1? Non poteva, deve essere per forza minore di 1, quindi se, anche qua almeno è così, ok, quindi ve lo faccio capire meglio in quest'ultima osservazione, prima di fare la pausa, andiamo a fare somma di 1 su n all'alfa, la serie armonica generalizzata, questa quant'è che converge? Quando è alfa? Maggiore di 1, questa l'abbiamo studiata, andiamo a provare ad applicare il tirarema del criterio del rapporto, 1 fratto n più 1 alla alfa, fratto 1 su n alla alfa fa questo, ma questo cosa fa? N fratto n più 1 all'alfa, a quanto tende? a quanto tende? Quando n tende a infinito, questo rapporto a quanto tende? A 1, e n fratto n più 1 tutta elevata all'alfa, n fratto n più 1 tende a 1, 1 all'alfa fa 1, allora, posso applicare il criterio del rapporto? No, il massimo limite fa 1, il minimo limite fa 1, non c'è nessuno spazio per applicare il criterio del rapporto, il fatto sta che il criterio del rapporto non lo possiamo applicare, però questa serie, se l'alfa è maggiore di 1 converge, se l'alfa è minore o uguale di 1 e lo sappiamo già, quindi il criterio del rapporto, se andate a vedere la dimostrazione, il criterio del rapporto come funziona? Funziona tramite il criterio del confronto, ma confronto con che cosa? Con serie geometriche, quando la serie è di tipo si può maggiorare o minorare con la serie geometrica di ragione minore di 1, maggiorare, allora converte, se la ragione maggiore di 1 e sto minorando, la serie diverge, la ragione è maggiore di 1, o maggiore o uguale di 1, e minore, la serie diverge, però, quando confronto, cioè la mia serie convergenza è ottenuta tramite il confronto con la serie geometrica, vuol dire che la serie, come dire, non è un caso delicato, non è quei casi come questi, già questo è un caso delicato, abbiamo dovuto fare un po' di fatica bene, ma quando la serie si vede che è convergente o si vede che diverge, confrontando una serie geometrica, vuol dire che commerceva o divergeva, ma di tanto. Ok, pausa.